Buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Ancora code sul A1, code per traffico intenso allo svincolo di Firenze e Scandicci in direzione Bologna. Traffico intenso sempre in A1 anche tra il Bivio, Firenze e Pisa Nord e Firenze e Scandicci, questa volta in direzione Roma. Prudenza per pioggia segnalata sulla Firenze e Pisa Livorno tra Ginestra e San Miniato. Torniamo in A1, un veicolo pesante è fermo tra Fabro e Chiusi direzione Firenze. Sempre sulla Firenze, Pisa Livorno, materiali dispersi sulla careggiata tra lo svincolo di Empoli ed Empoli Est direzione Firenze. Veniamo ai treni, il 18493 Pisa Firenze viaggia al momento con 26 minuti di ritardo. Ed è tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, guidate con prudenza. Noi ci sentiamo più tardi.